Per la prima volta abbiamo lanciato il Movimento Salva il Suolo nell'ultimo Maa Shivratri. 81 nazioni sono in procinto di formulare delle politiche riguardanti il suolo, per un benessere a lungo termine dell'ecologia del suolo. Ma qui ho alcune persone per voi. Alcuni di loro hanno pedalato lunghe distanze, alcuni di loro hanno corso, altri hanno camminato, qualcuno ha strisciato. Ma la cosa importante sono questi giovani. I loro cuori non cercano relazioni d'amore nel loro vicinato. I loro cuori sono pieni d'amore per questo pianeta. Ma ecco, questa è Nathalie, dalla Francia. E lei ha percorso tutta la strada dalla Francia qui in bicicletta. Più di 9.000 chilometri. Guardatela, dorme con un casco in testa. Possiamo anche sollevarla. Guardatela, è una campionessa di salva il suolo. Questo non è accaduto solo grazie a Isha Foundation. O al lavoro di tutti noi. Sì, l'abbiamo fatto. Ma tanti milioni di persone nel mondo si sono date da fare. Molte di loro non sappiamo chi siano. Ma si sono tutte date da fare e lo hanno sostenuto. No, non ho leo. No, non ho ieri. No, non ho ieri. No. Non ho ieri.